Soltanto meno di tre mesi fa il Foggia annunciò Mirko Cudini quale nuovo allenatore. La presentazione del tecnico avvenne nel corso di una tumultuosa conferenza stampa in cui alcuni tifosi fecero irruzione chiedendo chiarezza e presenza alla proprietà. Nulla contro l'allenatore ma l'aria che in quel momento si respirava a Foggia non era certamente delle migliori. Da allora il mondo rosso nero sembra fortunatamente essersi capovolto dallo scetticismo all'entusiasmo e all'apprezzamento per un tecnico che sta facendo via via breccia nel cuore del popolo dello Zaccheria. Umiltà, spirito di sacrificio, lavoro, prestazioni e soprattutto risultati che sono poi proprio questi ultimi ad indirizzare l'indice di gradimento del tifo. Il Foggia secondo in classifica stuzzica la fantasia del suo appassionato popolo che ora sogna ad occhi aperti un campionato da vivere da protagonisti. Fino in fondo sono lontani i tempi in cui il patron canonico annunciava tenendo un profilo basso la costruzione di una squadra in grado di fare un campionato dignitoso. Oggi la sticella sembra si sia alzata. C'è la convinzione anche all'interno del gruppo di poter arrivare fino in fondo quella consapevolezza che è figlia della forza e che aumenta col passare delle giornate. D'altronde è cosa nota. Vincere aiuta a vincere. A maggior ragione i risultati agevolano il percorso di crescita dei più giovani che compongono poi con lo zoccolo duro quel cocktail di gioventù mescolata all'esperienza. Una spenseratezza e un entusiasmo a cui aggiungere lo spirito di rivalsa di chi la Serie B l'ha accarezzata giugno scorso ed ora ha voglia di prendersi ciò che è sfuggito e non certo per demeriti propri.